Si chiamava Belly Mucinga, era una bigliettaia per le ferrovie britanniche e inglesi di 47 anni di età. Si è ammalata probabilmente per il coronavirus ed è morta. La storia ha fatto il giro del mondo, un passeggero ha tossito addosso a questa donna, ha sputato. Dicendo di essere malato di coronavirus, la donna si è ammalata e morta. Belly era a lavoro con un collega da Vittorio Station di Londra, quando entrambi sono stati chiedi dall'uomo, dopo giorni e due doni sono ammalati di coronavirus. La donna, 47 anni, già soffriva a livello respiratorio e è morta il 5 aprile 2020 dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva. Le fonti vicine alla compagnia aerea ovviamente hanno mostrato piena vicinanza e grande tristezza per la sorte che la donna ha fatto. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, datemi le vostre opinioni, ci tengo ad averle. Al prossimo video del vostro Leandro, narratore italiano. Belly, Mucinga, riposa in pace. Amen.